Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube, a sorpresa esce il videocollezione del 2023 anche perché ho pensato che fosse il momento adatto, proprio perché ho chiuso alcune serie e non penso di iniziarne altre a breve quindi iniziamo l'anno col videocollezione e poi magari ogni anno ci sarà un aggiornamento. Iniziamo subito, quindi sigla! Ed eccoci bentornati in questo video, iniziamo subito dalla prima mensola, via! Quindi iniziamo subito dalla prima mensola dove andiamo a trovare quelle serie che ho deciso di vendere e che quindi spariranno presto dalla mia libreria per dei motivi che adesso vi vado a spiegare. Innanzitutto abbiamo la Full Metal Alchemist versione Deluxe Gold, quindi una versione abbastanza vecchiotta che ho deciso di vendere, avevo acquistato su Vinted a poco prezzo, però non ho mai trovato i volumi successivi quindi mi sono bloccata e tenerla qui incompleta, che probabilmente non si completerà mai, mi dà fastidio quindi farò spazio ad altro, magari poi acquisterò una versione sicuramente migliore, magari l'ultima. Quindi se qualcuno ha bisogno di qualche numero, l'avendo su Vinted anche spezzata, vi lascio il link in descrizione. Stessa identica cosa per Touch di Adachi, che ho letto tutto e mi è piaciuto, però il resto l'ho dovuto leggere in scanner, penso siano 26 volumi, anche qui per fare spazio preferisco venderla, quindi dal volume 1 al 19 lo trovate su Vinted e questa era la prima mensola che presto sparirà. Successivamente andiamo alla seconda mensola dove troviamo le serie, diciamo, in corso, che sto seguendo dalla J-Pop. Abbiamo innanzitutto Tokyo Revengers dal volume 1 al volume 22, quindi tutti quelli usciti per ora in Italia. È stato il mio primo manga, mi piacciono tantissimo le copertine soprattutto, sono sempre molto belle, di stile. Vi faccio vedere qualcos'altro. Ecco qui. Non mi dilungo troppo perché ci ho fatto anche un video dedicato proprio a Tokyo Revengers, ha i suoi difetti, assolutamente. Soprattutto sta avendo un calo nella fase finale e me ne rendo conto, però è stato il mio primo manga, ci sono affezionata e comunque ho fatto il suo dovere a lungo. Mi dispiace appunto se dovesse rovinarsi alla fine, ma purtroppo questo è. Abbiamo anche il volume 24 in giapponese, comprato su un sito chiamato Verasia, che io vi consiglio perché comunque ha prezzi ottimi. Ho preso il 24 perché era veramente una delle mie copertine preferite. E poi abbiamo anche il cofanetto uscito da poco per il numero, se non sbaglio, 20. E c'era pure il character book all'interno, qualche cartolina e segnalibro che non sto qui a farvi rivedere. Poi abbiamo, sempre della J-pop, Komi, l'edizione variant del numero 1, che era in collaborazione con Games Academy. Ho solo questo di Komi perché sto seguendo l'anime, essendo un manga molto lungo ancora non mi sono addentrata in questo super recupero e non penso che lo farò a breve perché manca veramente lo spazio. Qui sto seguendo una nuova serie che è Dandadan, abbiamo le prime due in variant. Abbiamo questa qui e questa qui che sono appunto in variant. è il numero 3 che è uscito da poco e fra poco uscirà il quarto, che è sempre in edizione limitata con un calendario. Qui abbiamo una delle mie serie in corso preferite, ovvero Kaoloon Generic Romance, i primi sette volumi usciti in Italia, dell'autrice Jun Mayuzuki, che è la stessa autrice di Come dopo la pioggia, che vi consiglio assolutamente anche solo di vedere l'anime. Lì c'è una cartolina che davano con il primo volume in edizione limitata, non so se riuscite a trovarla ancora, che dire, è uno dei miei preferiti perché ha veramente tutto questo manga, mistero, una storia d'amore che non è generica per niente, disegni bellissimi, uno slice of life, quindi ci trovate veramente tutto all'interno. Unico neo, diciamo che siamo in pari col Giappone e non si sa quando vedremo il volume 8. Passiamo ad un'altra mensola. Come potete vedere questa è una mensola a muro e c'è tutto My Hero Academy, dal numero 1 al volume 34. Non ho variant, a parte il numero 30, cerco di farvi vedere questa qui, che era molto bella, c'era un poster all'interno e poi il volume 33, edizione, tra virgolette, limitata, in cui c'è un poster, che non so se è ancora disponibile, ma penso assolutamente di sì. Qui c'è una spilla che mi avevano dato con una figura che ho comprato su Vinted. Che dire, ho sempre detto che adoro My Hero Academy, soprattutto dal volume 21, 22, fino al 34, ha un innalzamento assurdo, proprio sulla trama, sulla storia. Meraviglioso. Non è brutta nemmeno la prima parte, anche se verso questi volumi qui abbiamo un po' di noia per quanto riguarda esami scolastici e tutto, quindi è un po' in discesa, però si riprende assolutamente bene ed è meraviglioso. L'anime io non lo consiglio, perché non lo so, io non sono mai riuscita a finirlo, quindi probabilmente c'è qualcosa nell'adattamento che non va molto rispetto al manga, però ovviamente essendo lungo, se qualcuno vuole approcciarsi comunque a questa serie, consiglio comunque di vederlo. Successivamente abbiamo questa piccola mensolina a muro dove ho recuperato e ho messo tutto The Climber, dal volume 1 al volume 17, edito dalla J-Pop. Non ho ancora finito di leggerlo, sono al volume 7 o 8, adesso non mi ricordo precisamente. Vi faccio vedere qualche copertina. Veramente molto belle, sia le copertine che i disegni all'interno. Vabbè, stiamo parlando di Sakamoto. Quello che ho letto fino ad ora mi piace tantissimo perché è uno Spogon un po' diverso dal solito, è una storia di crescita di un personaggio molto diverso dal solito, un personaggio che si affibbia bene, diciamo, allo sport che ha scelto di fare nella sua vita perché anche lui è solitario proprio come il suo sport. C'è qualcosa di psicologico all'interno, se non proprio tutto psicologico, quindi è un manga assolutamente bellissimo da avere. Se potete recuperarlo, recuperatelo, perché ne vale assolutamente la pena. Passiamo adesso a una delle mie due piccole librerie che si presenta nel primo scaffale in questo modo. Adesso tolgo quello che c'è davanti e vi parlo di quello che c'è dietro. Ora, lasciando perdere i dischi che vanno ad alzare i manga perché ancora non ho comprato dei rialzini decenti, abbiamo Blue Flag dal volume 1 al volume 8, edito dalla Planet Manga, ed è una serie completa. Anche di questo ne ho parlato abbastanza sia in un video di Target, quindi vi andavo a consigliare un manga per ogni Target, sia in un video unboxing. Anche se non l'ho ancora letto, ma ne ho sempre letto parlare sempre bene. Vi faccio vedere qualche copertina che è veramente bellissima. Come questa qui. Questa qui. Quindi non vedo l'ora di parlarvene, non sto qui a parlarvene ulteriormente perché ne so poco. E poi abbiamo Spy Family. Tutti i volumi usciti per ora in Italia, anche se non ho nessuna variant, perché l'ho acquistato dopo ed erano tutti esaurite. Di Spy Family c'è un anime che è molto molto fedele, quindi ve lo consiglio per chi non volesse recuperare l'anime. Il manga è molto divertente, mi sono affezionata a tutti i personaggi, dal primo all'ultimo, soprattutto perché i personaggi principali hanno una caratterizzazione bellissima, non puoi non amarli, è veramente impossibile, è divertente far ridere, è buono per staccare, quindi per chi cercasse una serie di questo stampo, di questo genere, assolutamente consigliato. Lì abbiamo un numero a caso di Jujutsu Kaisen, perché dovevo sbagliato un acquisto, è rimasto lì, ma vabbè. E qui una cartolina, non so perché sia qui, ma mi è arrivata con un manga io. Adesso vi faccio vedere quello che c'era davanti. Quindi sul davanti abbiamo, c'è insomma dal volume 1 al volume 11, tutti i volumi usciti per ore, quindi la prima parte che continuerà appunto in questo 2023, copertine veramente fighe. prendo dei volumi a caso. Ho visto tutto l'anime, ho deciso di recuperare il manga, quindi a breve andrò a leggere proprio il cartaceo, vi farò sapere il mio punto di vista, se ci sono appunto delle cose assolutamente diverse rispetto all'anime, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Comunque in questo momento uno dei miei personaggi preferiti è Makima, insieme a Power, che è molto divertente. Ovviamente non ho ancora letto il continuo del manga, quindi non so se poi questi personaggi mi deluderanno meno, però fino ad ora è un manga molto bello, uno show me molto bello, perché c'è anche della psicologia dietro, non è solo botte, quindi mi piace molto soprattutto l'anime, quindi adesso andremo a vedere un po'. Da questa parte è un recupero che ho fatto a breve di Oshinoko, un manga di cui appunto parlano veramente tutti e mi è venuta una curiosità assurda, quindi sono andata a recuperare tutti e cinque i volumi e li ho letti tutti e cinque, mi è piaciuto tantissimo, perché la psicologia dietro ai personaggi è veramente assurda, ti spiega tante cose nel mondo dello spettacolo, nel mondo dello spettacolo in generale, si parla di idol, si parla di mangaka, si parla di attrici, veramente di tutto, ti fa vedere il marciume che c'è dietro questo mondo. Le copertine mi piacciono tantissimo, soprattutto la prima che era olografica, con tutti questi brillantini che non so se riuscite a vedere, ma anche la numero 5, che è l'ultima uscita, è veramente bellissima, qui purtroppo non sta in piedi nulla, quindi volete una serie in corso, assolutamente dateci un'occhiata. Adesso passiamo alla mensola sotto, lo scaffale sotto, levo quello che c'è davanti, vi faccio vedere il dietro. Allora dietro abbiamo una mensola, con una fila dedicata assolutamente a uno dei miei autori preferiti, se non il mio autore preferito, che è Ignio Asano. Ignio Asano mi ha sempre stupito con tutte le sue opere, quindi fino ad ora non mi ha mai deluso, e andiamo a vedere innanzitutto What a Wonderful World, che è una miniserie in due volumi. Vi faccio vedere, magari la prima di partina. è molto particolare, sono storie brevi che a volte si collegano tra di loro, a volte no. Ci ho fatto una recensione proprio su questi due volumi, è un Asano un po' diverso ovviamente, perché stiamo parlando che è una delle sue prime opere, perché ritrovo in questo tipo di Asano, nonostante la sua tragicità, il suo pessimismo, in quest'opera ritrovo comunque alla fine di ogni storia una piccola speranza, proprio per tutti i personaggi che ci sono all'interno. Quindi mi è piaciuto vedere anche questa sfaccettatura del suo carattere, o comunque del suo periodo iniziale, quindi io lo straconsiglio, per conoscere magari anche l'autore, può andare bene. Poi abbiamo La Città della Luce, un altro manga autoconclusivo, che sicuramente se avete letto tanto di Asano non è questa rivoluzione, perché fondamentalmente è qualcosa che abbiamo già visto nelle sue opere, parla sempre di questi giovani adolescenti o comunque giovani adulti che devono affrontare il mondo del lavoro, dopo appunto la scuola, un mondo che li delude, la loro difficoltà ad inserirsi proprio nella società, e ci fa vedere appunto come questa Città della Luce, che viene vista da fuori come un quartiere meraviglioso di persone fatte per bene, in realtà all'interno esistono varie situazioni familiari che non sono proprio il massimo. Lo consiglio per iniziare, sì, se avete letto tanto di Asano probabilmente no, solamente per completezza. Poi abbiamo una delle sue opere, anzi per me in questo momento, ovviamente perché non ho ancora letto questa, l'opera migliore di Inyo Asano, che è Buonanotte, ne ho parlato tantissime volte perché è una delle mie manga preferite, se non il secondo manga preferito, e non posso che consigliarvelo assolutamente. Io ho iniziato come prima opera, quindi primo approccio, e non me ne pento assolutamente. Sicuramente bisogna avere, sicuramente non è per persone sensibili, ecco, quindi se non siete tipi abituati a questo tipo di manga, a queste problematiche, a questi temi, sicuramente non è per voi, però se volete qualcosa di forte, qualcosa che vi svegli, qualcosa che vi faccia aprire gli occhi, potete iniziare benissimo da questo. Le copertine sono molto particolari, in questo cartoncino, queste figure un po' così in rilievo, particolari anche se si ronovinano facilmente, se vedete un po' sono sbeccate perché è un cartoncino abbastanza fragile, però è un'edizione che li stampano comunque spesso, quindi se trovate i volumi, acquistatelo assolutamente. E poi abbiamo una delle sue ultime opere, comunque arrivate qui in Italia, ovvero The Demons, The Destruction, abbiamo dal volume 1 al volume 6, e poi 10, 11 e 12, quindi mancano un 6 volumi, anzi, un 3 volumi più o meno, che ancora non hanno ristampato, e quindi dovrò aspettare per leggerlo, perché non mi piace continuare i scan, non è qualcosa che amo fare, mi piace proprio avere il cartaceo in mano, quindi vi saprò assolutamente dire più avanti. So che ci stiamo facendo anche un adattamento, un confinno, forse un adattamento animato, ed è il primo su Inyoesano, quindi ne sono contenta. Appena lo leggerò, vi farò sapere qualcosa. Adesso rimettiamo a posto i manga davanti e vi parlo di quelli. Allora, qui davanti abbiamo un po' di Urasawa, abbiamo un volume unico, ovvero il segno dei sogni, è cascato tutto, non lo consiglio per iniziare, io l'ho acquistato, anche se avevo già Pluto, e l'ho letto per primo. Non mi è affatto impazzire, è una storia sì carina, molto autoconclusiva, che si fa leggere assolutamente, ma non c'è nulla di particolare. Mentre una delle opere migliori che ho letto, in assoluto in generale, quindi non solo di Urasawa, è Pluto, un manga veramente bellissimo, con un spediente, diciamo, dei robot per parlare di diversità, per parlare di razzismo, quindi io ve lo consiglio assolutamente. Il finale mi è piaciuto, anche se ci sono delle cose che non ho compreso appieno, ma probabilmente è qualcosa di aperto, quindi dovete dare voi una vostra interpretazione, anche se comunque si chiude. Non vi posso spoilerare nulla, la storia comunque si chiude, c'è un suo finale, ma c'è qualcosa che viene lasciato un po' così aperto. Ve lo consiglio per iniziare? A me non l'hanno consigliato, ma l'ho fatto lo stesso, è stato il perfetto starter point per quanto mi riguarda. Per il resto non saprei, però è sicuramente una delle sue opere migliori e penso che non possa non piacere. Poi passando giù, l'ultimo scaffale, ho messo i manco un po' più alti di formato, quindi che continueranno. Abbiamo Solanin, di Inyo Asano, anche questo lo considero uno dei suoi manga migliori e quindi se volete iniziare da qualcosa potete iniziare assolutamente da questo. È un manga che parla di ragazzi che hanno appena terminato l'università e che devono avere a che fare col mondo del lavoro, con le prime delusioni, con depressioni, con sogni infranti e tanto altro, quindi lo consiglio assolutamente. Accanto abbiamo Reirakula Koduta che parla di un mangaka che si trova in un momento di difficoltà e che non riesce a produrre nulla. Ci stanno facendo un film, quindi vi consiglio di vederlo se dovesse mai uscire sotto il titolato. L'edizione è molto grande, molto figa, quindi ve lo straconsiglio. Anche questo è veramente molto, molto bello. Accanto ci sono due manga che non vi consiglio assolutamente, di Mario Kazaki, Sudore e mele e Singole per sempre. Sono due volumi autoconclusivi. Il primo, se qualcuno mi chiedesse di cosa parla, ancora oggi non so di chi vi perché non si capisce veramente nulla, mentre Singole per sempre è assolutamente un manga carino. Se non avete niente da leggere ci può stare, ma se dovete spenderci dei soldi non è sicuramente qualcosa di così essenziale. È una storia carina che parla di quattro donne che non sono sposate e vengono viste un po' diversamente dalla società e quindi è un manga assolutamente femminista che sicuramente poteva essere sviluppata bene se avesse avuto più volumi, però è carino ma ci sono tante altre cose da leggere. Poi abbiamo Blue Giant, questa edizione è un'edizione deluxe che contiene due volumi e crea questa foto in costina, questa immagine. Manca solo un volume, volume 5, non l'ho ancora letto, quindi vi saprò dire meglio successivamente, ma i disegni sono eccezionali. Non ho la variant perché non sono riuscita a prenderla, magari in futuro l'acquisterò su Vinted o comunque l'hendo usato. E questa era la mia prima libreria che è formata più che altro da Shonen e Seinen. Adesso passiamo all'altra libreria e passiamo infatti a questa. Qui abbiamo i manga Shoujo e Josei, in particolare nella prima fila abbiamo un po' di flashbook, Magic Press, bla bla bla. Allora, partiamo da Tomoko Yamashida che è una delle mie mangaka preferite ultimamente. Abbiamo il buio oltre alla finestra triangolare, un manga che è stato scritto in una rivista Boys Love, anche se non è proprio un Boys Love. Sì, ci sono delle battutine, eccetera, ma non è incentrato nella storia d'amore, è un manga che parla di spiriti, di fattuccheria, quindi è molto dark, è anche divertente per certi punti di vista. Siamo arrivati al volume 7, è uscito all'8, lo devo ancora recuperare e si concluderà con 10 volumi, perché è già concluso in patria. Vi faccio vedere qualche copertina, comunque molto, molto figo, anche l'edizione è molto carina con questo colore che va prima al nero e poi diventa, diventa bianco. Accanto abbiamo sempre di Tomoko Yamashita e Kokuniki, che è diventato uno dei miei manga preferiti in assoluto, sicuramente sarebbe in una top 3 probabilmente, è un manga di cui vi ho parlato tantissime volte ultimamente, siamo al nonno volume e siamo in pari in Giappone e non sappiamo quanto volumi saranno, quindi tocca aspettare, è un manga di crescita, è un manga che affronta le difficoltà della vita, i traumi, il lutto, il modo in cui la gente decide di affrontare determinate situazioni, è veramente bello, è una storia di legami tra questa ragazzina e sua zia che sono costretti a vivere insieme dopo l'incidente dei genitori di questa ragazzina, quindi io vi invito assolutamente a leggere se volete un Gio 6, questo è un Gio 6 fatto veramente, veramente bene. Accanto abbiamo Orange, un altro shoujo molto molto bello, concluso in 6, si può dire in 5 volumi, il 6 e il 7 sono dei volumi in più che comunque non vanno a continuare la storia, comunque la storia si conclude col 5, sono delle cose in più che comunque sono molto carine, devo rileggere perché il 7 ancora non l'ho letto perché è uscito da pochissimo, anche questo è uno shoujo che io straconsiglio di leggere a tutti perché parla di come delle persone, una rete amicale può aiutare a cambiare il destino di una persona, una persona che soffre di depressione, una persona che in un futuro probabilmente non ci sarà, e questi ragazzi che cercano di aiutarlo e di migliorare la sua situazione futura, è veramente molto 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 bello, quindi ve lo consiglio, è una miniserie, quindi dateci un'occhiata. Accanto abbiamo un volume unico della flashbook You're my son o my son di Yuki Akaneda che non conoscevo, vi faccio vedere la copertina, eccolo qui, ve ne ho già parlato in un video recensione sinceramente, quindi non sto qui a parlarvene troppo ulteriormente, però è un manga autoconclusivo, molto carino che mi ha sorpreso, che parla di questa relazione intesa proprio affettiva tra un ragazzo e un bambino che gli viene dato in affidamento dopo la morte della madre o comunque della zia in realtà, e quindi il rapporto tra queste due persone è molto molto bello, ve ne ho già parlato quindi andate a vedere quella recensione magari ve la lascio in descrizione. E poi da questa parte abbiamo lo shoujo in corso che sto seguendo anche se in realtà non è in corso solo qui in Italia perché è già concluso, è una riedizione di Tsubaki Cholo Holy Planet dal volume 1 al volume 5 è molto carino, molto fresco, una storia d'amore particolare in cui lui è più grande di lei ma comunque sicuramente non di tantissimo, è uno scrittore, lei va a vivere a casa sua per problemi economici di debiti e nasce un po' questa storia d'amore molto divertente, molto dolce, non è stucchiavole per niente quindi ve lo straconsiglio. Adesso passiamo alla mensola dedicata ad Ayazawa e quindi andiamo giù. Allora dietro in realtà abbiamo lì all'inizio La Nuova Vita di Nina che non sto smontando tutto perché è veramente enorme qui. La Nuova Vita di Nina è uno shoujo in quattro volumi di cui vi ho già parlato è un manga molto carino se volete una storia breve che parla di reincarnazione quindi questa bambina fondamentalmente un giorno sblocca i ricordi della sua vita passata e ricorda di essere innamorata del suo vicino di casa il suo vicino di casa ovviamente è grande lei è piccola quindi bisogna capire come si sviluppa la situazione molto carino poi abbiamo una delle opere più vecchiotte di Ayazawa ovvero Non sono un angelo nella sua versione appunto abbastanza vecchiotta e pezzotta comprata pochissimo dal volume 1 al volume 8 serie completa Non sono un angelo non è sicuramente l'opera migliore di Ayazawa ma è comunque molto ci sono sempre comunque le sue caratteristiche principali è divertente è una storia d'amore è scolastica i personaggi sono molto molto freschi molto simpatici ti fanno affezionare veramente a tutto quindi io lo straconsiglio comunque se volete uno scioglio scolastico perché anche se ce ne sono tanti moderni comunque questo rimane sicuramente uno dei più belli della sua categoria da questa parte abbiamo i cortili del cuore nella sua edizione deluxe infatti è composto da soli 4 da 4 volumi quindi 2 volumi se non sbaglio sono 2 volumi inclusi 2 volumi a manga diciamo è uno dei manga migliori perché si è ambientato in un ambiente scolastico si è divertente si a volte trash ma c'è dell'altro perché la protagonista è molto molto caratterizzata bene ed è una personalità molto particolare e ti insegna veramente tanto i personaggi sono veramente di affezione a tutti in pochissimo tempo vediamo se riesco a farvi vedere meglio l'edizione ecco qui e quindi ve lo consiglio soprattutto se amate il mondo della moda perché qui si parla proprio di moda perché i ragazzi vanno in un istituto di moda soprattutto la protagonista vuole diventare una stilista quindi andiamo a vedere tutto il suo percorso che poi la porterà forse diventare una stilista quindi sicuramente andate a leggerlo ultimi raggi di luna edizione deluxe con questa edizione meravigliosa cartonata che vi consiglio assolutamente di recuperare anche se costa 18 euro volume ciò viene meglio ecco qui allora che cosa dire di ultimi raggi di luna ci sarebbe veramente da dire tantissimo però ne ho già fatto una recensione e quindi vi lascio il link su in descrizione uno dei manga più belli di Ayazawa probabilmente al secondo posto dei miei manga preferiti i suoi perché è qualcosa di sicuramente sperimentale diverso dal suo solito sia uno shoujo ma è uno shoujo che parla di tante cose diverse dai temi che possiamo riscontrare in altri shoujo veramente bellissimo perché abbiamo questa storia di anime che si rincontrano quindi se non avete mai letto nulla di Ayazawa fidatevi a ultimi raggi di luna perché secondo me vi aprirà la porta ad una mangaka che è eccezionale poi abbiamo Paradise Kiss in questa Complete Anniversary Edition molto bello Paradise Kiss ma è molto leggero anche se nella sua leggerezza comunque ha fatto un po' la storia perché è un giosei e quindi anche come Cortile del Cuore ci sono delle parti d'amore dei personaggi appunto innamorati che magari non siamo abituati a vedere quindi nel momento anche in cui diventa un adulto in quel senso no? è descritto è disegnato quindi è molto particolare è divertente è sempre di crescita di trovare la propria strada nel mondo anche di smarrimento qui si parla anch'esso di moda perché appunto siamo in un atelier questi ragazzi che soprattutto il protagonista Jojo Joji che vuole appunto diventare uno stilista ed è un personaggio molto particolare quindi io ve lo straconsiglio e poi abbiamo il capolavoro per eccellenza di Ayazawa che è Nana nella sua Reloaded Edition in cui abbiamo il volume 1 invariant data con la Steelbox eccolo qui che è una delle variante che io tengo di più non venderò probabilmente mai senza probabilmente non la venderò mai punto poi abbiamo sempre di Nana quindi tutto il manga fino al volume 21 e poi ovviamente è stato interrotto è appunto la Steelbox che contiene la cartolina e il magnete che dire di Nana non c'è bisogno proprio di parlarne recuperato se non l'avete ancora letto è veramente qualcosa di meraviglioso per il suo target ma anche non per il suo target in generale Nana va letto secondo me poi passiamo all'ultimo scaffale di questa libreria dove troviamo altri shoujo allora dietro abbiamo proteggere la terra in questa nuova edizione della planet manga molto pezzotta diciamo economica ma non è assolutamente da buttare abbiamo dal volume 1 al volume 8 si concluderà con 12 volume quindi ci siamo quasi ne ho già parlato tantissimo anche questo è uno shoujo molto particolare molto complesso quindi vi consiglio di leggere tutto insieme se lo acquistate perché frazionario gli ho fatto difficoltà e per esempio ancora non ho letto il volume 8 perché non mi ricordo tantissimo del 7 e devo fare una rilettura ma lo consiglio assolutamente uno shoujo degli anni se non sbaglio 80 bello ragazzi una storia intracciata di futuro di passato e presente in cui questi ragazzi in realtà hanno avuto una vita passata devono fare i conti con la sua vita passata veramente bellissimo qui abbiamo davanti Mars in questa edizione nuova fatta dalla Star Comics se non sbaglio due volumi in uno di Mars ci ho fatto anche una recensione un bello shoujo non è il mio preferito in assoluto ma un bello shoujo che parla di anche temi abbastanza pesanti come la violenza sessuale come la violenza fisica in generale il suicidio e tante altre cose quindi è sicuramente un manga shoujo con temi abbastanza drammatici però è molto molto bello una storia d'amore molto carina tra questi due ragazzi l'edizione è veramente fatta bene ed è composto in otto volumi con questa scritta che poi si va a comporre molto bella accanto abbiamo ad un passo da te dal volume 1 al volume 13 manga completo a volte non si trovano alcuni volumi però io ve lo consiglio è moderno rispetto ovviamente agli altri è fresco è una storia molto carina io sono arrivata dove è arrivato l'anime quindi dovrò andare avanti però per quello che fino ad ora ho letto è molto carino faccio vedere qualche copertina per esempio sono molto belle anche queste ecco qua quindi se cercate un manga shoujo non troppo vecchiotto guardate di questo poi abbiamo il numero 1 di platinum hand che non se lo caga nessuno l'avevo preso in discover edition l'ho messo lì per reggere la fila tutto qua qui in maniera molto bizzarra abbiamo disposto il manga in una specie di comodino che aveva questo scaffale quindi ne ho approfittato abbiamo tutto fruit basket in questa edizione big love edition quindi molto cicciotta è uno shoujo vecchiotto che è comunque molto bello quindi ve lo consiglio se cercate un manga shoujo vecchiotto ma con una bella storia perché questo è veramente bello è molto famoso c'è già un anime quindi se magari siete in dubbio andate a vedere l'anime però io ve lo straconsiglio perché è una storia fatta bene dall'inizio alle fine finisce bene l'unico neo è l'edizione in questo caso ma anche il disegno perché l'autrice li disegna molto spesso anzi levando molto spesso nello stesso manga si somigliano veramente tanto tutti e questo mi ha provocato delle difficoltà nella lettura quindi sono stata un po' lenta ma a parte questa è una bella storia che non è incentrata sull'amore perché è qualcosa che vedremo quasi alla fine ma è una storia di crescita anche questa una storia di coraggio di farsi forza di uscire da una situazione di sottomissione di riuscire a farsi valere è molto bella come storia molto particolare non troverete niente di simile a Fruit Basket nel panorama manga secondo me quindi ne vale la pena comunque di leggerlo e poi qui abbiamo andante di mio Ubana che ho praticamente pagato 7 euro su Amazon tutti e tre con il cofanetto che io ho prontamente buttato non l'ho ancora letto ragazzi ci sono tante cose che ancora devo leggere quindi è stato messo in secondo piano assolutamente purtroppo però nel momento in cui mi andrà lo leggerò perché è comunque una miniserie di tre volumi ne ho sentito parlare bene quindi non vedo l'ora di leggerlo per ultimo ma non per importanza avevo dimenticato di farvi vedere il box di la professoressa mente fresco fresco di regalo di natale sono appunto quattro volumi lo sto leggendo sono volume 2 ve ne parlerò in umbri in un video proprio recensione quindi non lo sto non lo sto fare qui ma assolutamente un manga bellissimo che mi ha aperto le porte ad una nuova mangaka nuova per me ovviamente che voglio assolutamente scoprire e poi per chiudere vi faccio vedere un po' delle figure che ho ovvero ania in versione piccola comprata veramente a pochissimo su aliexpress questi due che li ho comprati nelle palline che si acquistano mettendo le monete da games academy questa di gohan che vi ho mostrato nel video dei regali di natale questa qui che vi ho mostrato anche in un video unboxing comprata su vintage veramente tipo un prezzo tipo 7 euro di bakugo indietro abbiamo quella di todoroki che adoro tantissimo e qui abbiamo un'altra di decopresa subinte da poco prezzo che mi piace veramente veramente tanto queste erano le uniche figure che ho in questo momento però se ne aggiungeranno sicuramente altre presto e questa era tutta la mia collezione manga spero vi sia piaciuta fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se vi aspettavate alcuni titoli che non ci sono in collezione vi aspetto sempre dai commenti lasciate un like e l'iscrizione al canale e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video